Professoressa Fornero, perché la questione intergenerazionale è una sfida per il nostro tempo? Perché noi abbiamo vissuto anni, forse si può dire decenni, in cui la mancanza di crescita ha messo a rischio le generazioni giovani, il loro futuro, la loro possibilità di formarsi una famiglia e quindi anche la nostra demografia. Quindi è una questione importante che non riguarda solo l'economia ma riguarda la nostra società e il futuro della stessa. Perché è importante l'educazione economica per i giovani? È importantissima perché oggi tutte le persone hanno molte scelte, eppure nell'ambito di un sistema che ci obbliga a molte cose, per esempio ci obbliga a una certa scolarizzazione, ci obbliga a vaccinarci quando è il caso. Però ci sono molte scelte e le scelte richiedono che ci sia un po' di consapevolezza. Le scelte in campo economico, quando sono accompagnate da una totale inconsapevolezza di ciò che ci sta dietro, possono condurre a errori, possono portare una persona a fidarsi di persone sbagliate. Allora noi parliamo di educazione economico-finanziaria, intendendo però soltanto i concetti essenziali. Non vogliamo far diventare in generale il popolo italiano un popolo di esperti in finanza. Non è quello il punto. Si tratta soltanto di avere gli strumenti minimi necessari perché si facciano meno errori, si comprendano meglio le conseguenze di scelte che sono fatte oggi. Per esempio, le cito, una di queste scelte che riguarda i giovani, continuo a studiare oppure cerco un lavoro. Ed è chiaro che l'una e l'altra hanno conseguenze diverse nel tempo. Bisogna che quelle conseguenze siano almeno un pochino introiettate nella decisione di oggi. Che tipo di welfare serve oggi, professor Rissa? Serve un welfare inclusivo. Noi abbiamo avuto un welfare che è stato generoso con alcune categorie, ma ne ha escluse altre. È chiaro che c'è anche un dinamismo dell'economia che crea nuove categorie. E creando nuove categorie crea innovazioni anche nei processi produttivi, qualche volta marginalizzando i lavoratori che appartengono a questi processi. Alludo soprattutto, per esempio, ai riders, a questi fattorini dei quali oggi abbiamo tutti una certa consuetudine. Ebbene, queste categorie nuove possono essere all'inizio scoperte rispetto ai rischi della vita lavorativa o della vita in generale. Il welfare che sia adatto a un paese, diciamo, civile deve includere possibilmente tutti. Naturalmente questo non vuol dire che dobbiamo fare un welfare generoso caricandolo sulle spalle delle giovani generazioni e di quelle che verranno. Bisogna sempre considerare che il welfare deve essere equilibrato anche nei confronti delle generazioni giovani e future. Non può essere fatto solo a debito. In conclusione le chiediamo una considerazione sul Festival Trentino 2060, su questo Festival del Pensiero Critico. Beh, intanto il titolo è un bel titolo e questo è uno dei motivi per cui ho accettato di partecipare. Primo il fatto che me lo proponesse un giovane, un giovane che con altri giovani si è messo in modo del tutto volontario a organizzato a organizzare qualcosa che facesse anche spirito di comunità, che d'altronde in questa parte del paese mi sembra già molto diffuso. E poi perché il titolo è un titolo molto buono. Pensiero critico vuol dire discutere sull'essenza delle cose. Non vuol dire... è il contrario del pregiudizio. È il contrario della polemica sterile o della polemica strumentale che si fa soltanto per ottenere scopi che nulla hanno a che fare con l'oggetto della discussione. Quindi devo dire che mi complimento con questi giovani e penso che siano veramente una buona rappresentanza per il futuro del nostro paese ma anche dell'Europa. Arnaldo D'Andrea è il presidente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Presidente, perché l'Istituto di Credito Cooperativo, la Banca della Comunità Locale, sostiene questo evento? La Cassa Rurale è felice e orgogliosa di sostenere le associazioni del territorio. Soprattutto quelle associazioni che danno qualcosa in più allo sviluppo del territorio. I ragazzi di Agora, tramite Trentino 2060, che è una manifestazione che è nata due anni fa, si sono fatti promotrici di alcuni incontri veramente importanti con dei personaggi che possono essere definiti anche particolari ma sicuramente che hanno importanza a livello nazionale. Quindi la Cassa Rurale ha deciso di promuovere e di essere sponsor unico di questa manifestazione proprio per valorizzare questi ragazzi che sono ragazzi coraggiosi, preparati e che sono inclini al futuro. Quindi il nostro motto, che è inclini al futuro, non poteva che essere associati ai ragazzi di Trentino 2060. Davide Battisti è il direttore scientifico del Festival Pensiero Critico Trentino 2060. Perché è stato organizzato questo evento? Beh, diciamo che il Festival Trentino 2060 nasce per riempire un vuoto, un gruppo di giovani senza un luogo sociale nel quale confrontarsi, nel quale condividere dubbi, ha deciso di crearlo, questo luogo sociale, attraverso inizialmente nel 2019 un ciclo di conferenze che è stato ribadito nel 2020 e poi grazie all'aiuto di Cassa Rurale Val Sugane Tesino abbiamo organizzato il primo Festival del Pensiero Critico targato Trentino 2060. Questa è un'occasione per appunto dialogare in modo civile delle più scottanti questioni dell'attualità per ragionare il presente ed immaginare un futuro migliore. Parlare di Agorà perché l'associazione ha preso questo bel nome ed eccola l'Agorà, cioè questo listo di confingere, di darti del lei e continuare a darti del tu. Io però parto da una cosa anomala, cioè poco fa. Ancora di più è la distribuzione del capitale umano si è un po' polarizzata. E allora questo... Ma oggi si sceglie l'asilo mio per permettere al figlio sia un'ottica di inclusione e di essere... il welfare deve cominciare dalla nascita e perché stasera. Ma abbiamo avuto una congezione del welfare di essere un po' più fortunati di quelli che erano mati. Per sé ma soprattutto per i loro figli, che i loro figli fossero... e anche per il tempo... ...e questo è un pensiero critico. Io parto, ora consentisco... Ringrazio la Cassa Rurale, Valsulana e Tesino come motore... ...è un gruppo di ragazzi che cerca, che cercava nel 2012 un luogo... Mi fa particolarmente piacere che sia finalmente arrivato il momento di dar via a questa splendida inizia... ...cittadini e cittadine che hanno voluto essere presenti questa sera a questo primo appuntamento fatto a Borgo... ...e non siamo orgogliosi di moderare questa serata. Occasioni come queste di confronto, di approfondimento... ...e attuali, con punti di vista portatori di elementi di critica e complessità. E' un'occasione per allontanarci dalla nostra...